Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 17 di questa seconda stagione, che poi è la 35esima nel conto totale. Dunque, l'Alma Juventus Fano ha un nuovo presidente, si chiama Salvatore Guida e succede nel ruolo a Mario Alessandro, russo dimissionario, ormai da qualche settimana. Un'operazione che però sta ancora suscitando serie perplessità nell'ambiente, che cercheremo di mettere a fuoco con il contributo di Massimiliano Barbadoro, giornalista del Corriere Adriatico. Buonasera e benvenuto. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Dicevamo di un'operazione che è stata ufficializzata nei giorni scorsi, che sta alimentando il sospetto dell'ambiente, perché i presupposti erano noti. Russo intendeva, sì, abbandonare il Fano, ma aveva fissato un prezzo per l'accessione, 500 mila euro, prezzo che non aveva trovato riscontro sul mercato. Poi improvvisamente, nella tarda serata di giovedì scorso, la comunicazione sui canali social del Fano, che il nuovo presidente era Salvatore Guida, al quale la carica era stata attribuita, o meglio conferita. Mentre vediamo un'immagine di Salvatore Guida nella sua fugace esperienza Grosseto, di cui parleremo poi. Questo utilizzo dei termini in quell'annuncio ha subito originato qualche dubbio, perché in effetti, qualora si fosse concretizzato un vero e proprio passaggio di quote, come lo stesso Guida poi si è premurato di precisare, in realtà, e facendo riferimento ad un annuncio precedente, quello della scorsa estate, in orbit, nel contesto dell'operazione della cessione poi tramontata a Mancini, si era usato espressamente il termine cessione di quote. E allora, Massimiliano, come la inquadriamo questa situazione? Beh, sì, in effetti, guardando al precedente, ovvero a quei giorni di fine luglio della scorsa estate, ricordiamo tutti chiaramente l'annuncio che, tra l'altro, aveva spiazzato ed è stabilizzato l'intero ambiente, e cioè che lo stesso Russo poi faceva sapere che era stato effettuato questo passaggio di quote all'imprenditore romano Benedetto Mancini. In questo caso, invece, sempre sui canali social della società Granata, si parla di conferimento dell'incarico di presidente, che, tra l'altro, è il ruolo rimasto vacante dopo, appunto, il disimpegno ufficiale di Russo. Quindi, ecco, già questo... Perché si presuppone che qualcuno questa carica l'attribuisca poi, no? Esattamente. E quindi abbiamo, ok, abbiamo un presidente, però la società di chi è? Ad oggi possiamo ritenere, ritenere per gli elementi che ci sono sul tavolo, che la proprietà resta a Mario Alessandro Russo e quindi è in carico a lui anche la responsabilità di quello che poi accadrà fino a prova contraria, insomma. Abbiamo preso da guida che però, in effetti, si è trattato di un passaggio di proprietà a tutti gli effetti. Ovviamente, da questo punto di vista, c'è anche un periodo, un tempo tecnico, per formalizzare il passaggio e quindi un po' di cautela va usata e comunque, alla fine, le chiacchiere stanno a zero, ci sono i fatti e i fatti, in questo caso, si traducono nella corrisponsione di almeno una mensilità alla squadra che è ferma al rimborso di novembre. In effetti, diciamo che quelli che sono in questo momento più attenzionati rispetto agli sviluppi della situazione sono i tesserati, ovvero lo staff tecnico, la squadra, i collaboratori che hanno ricevuto come ultima mensilità novembre e nel primo contatto che c'è stato con l'avvocato Petritola, che diciamo è il direttore generale in pectore, così perlomeno lo ha presentato guida, avevano appreso che in questa settimana già i primi stipendi e rimborsi sarebbero stati accreditati, invece, a quanto pare, insomma, ieri l'avvocato Petritola è risalito a Fano e la situazione già non era in quei termini. Quindi ci sarebbe uno slittamento alla prossima settimana e la notizia naturalmente non è stata ben accolta da chi si aspettava altro, giustamente. È stata annunciata per venerdì la presentazione alla stampa di guida che dovrebbe avere nella stessa giornata un contatto anche con il sindaco Seri, sarà quella la circostanza per porre domande ancora più puntuali all'interessato. Nel frattempo, dal contatto che hai avuto con guida, che impressione ne hai ricavato? Io vado sempre con estrema cautela su ogni personaggio, lo voglio giudicare sulla base dei fatti e non, diciamo, sulle chiacchiere o magari anche sui precedenti, perché poi può anche capitare di sbagliare nella vita e quindi anche nel mondo del calcio. È ovvio che su ogni persona va dato un giudizio e non ci si deve poggiare sui pregiudizi. Questa è la premessa. Assolutamente. Detto ciò, naturalmente, oggi abbiamo internet, abbiamo i motori di ricerca, abbiamo reti di conoscenze, quindi quello che si è potuto così raccogliere in merito alla figura di guida non può fare star tranquilli. Però, ecco, come si dice in questi casi, bisogna anche dare la possibilità di dimostrare e per il momento i primi passi non sono rassicuranti, insomma, ecco, questo sì. Gli elementi di conoscenza che appunto sono forniti dalla rete dicono di un imprenditore operante nel campo della ristorazione per quello che riguarda le sue esperienze calcistiche, a quei due mesi al Grosseto, esperienza, come dicevamo, molto fugace e che non ha dato evidentemente risultati tangibili e significativi. Sì, i timori sono legati a questi suoi precedenti, un'esperienza proprio all'interno del Grosseto di due mesi dopo la gestione di Matteo e poi è stato accostato anche a due realtà, passatemi il termine, moribonde come Arzachena e Viterbese e ecco, quindi i timori sono che si tratti di questi personaggi che si inseriscono in contesti critici cercando, non si sa poi bene cosa, no, come interesse personale. Sta di fatto che poi, come è capitato anche con Benedetto Mancini, sono situazioni che non hanno portato nulla di buono per le piazze che le hanno vissute. In capo a tutto, prima dell'avvento di Guida, che vedremo quanto inciderà realmente in un contesto estremamente complicato, in capo a tutto, dicevamo, resta Mario Alessandro Russo, la cui storia di questi ultimi mesi, in rapporto naturalmente alla gestione dell'Alma Juventus Fano, ha generato interrogativi senza risposta, in particolare questo prezzo, 500 mila euro, che nessuno è stato in grado di corrispondere, lo stesso Mancini è rimasto alla carta di quel tipo di offerta. Una proposta di cui si è fatto l'attore il sindaco Seri, facente capo ad un fondo internazionale, non meglio precisato, che parlava di 200 mila euro più la presa in carico del debito. Anche a questo riguardo sarebbe stato interessante mettersi al tavolo della trattativa per cercare di individuare di che cosa si trattasse esattamente. E poi il passaggio a Guida e uno si chiede, ma allora Guida, corrisposto ai 500 mila euro che Russo pretendeva, o diversamente perché cederla ad un personaggio che non è stato in grado di coprire quel tipo di richiesta? Sì, sono azioni un po' così controverse e se vogliamo illogiche, perché appunto si era detto, era stato piuttosto chiaro, Russo che intendeva cedere solamente di fronte a una certa quota, aveva fatto una valutazione, 500 mila euro, Benedetto Mancini non ci riuscì, non ci sono riusciti nemmeno quelli del Fondo Internazionale che comunque avevano messo sul piatto una proposta più che allettante, soprattutto rispetto all'effettivo valore che può avere l'Alma Juventus Fano in questo momento. E sarebbe stato, aggiungo, nell'interesse dello stesso Russo mettersi al tavolo per capire un po' meglio ed eventualmente magari scoprire anche un altro possibile blef. Assolutamente, anche perché poi è vero che la consegna delle chiavi al sindaco è un atto simbolico, perché non esiste che qualcuno lascia una società, un SRL tra l'altro, a un primo cittadino, però così si usa dire lo prendiamo per buono, ma significa anche che tu ti vuoi liberare di una società a qualsiasi costo. E così non è. Se poi in realtà pretendi 500 mila euro e rifiuti 200 mila euro più l'accollo dei debiti che oltretutto non si conoscono effettivamente e non si possono quantificare perché non ci sono state state visioni dei libri contabili e quasi per dispetto sembra rifiuti tutto ciò e la dai consegni la società a un personaggio che non sembra avere poi le potenzialità economiche per soddisfare quelle che sono le tue esigenze economiche. Il rischio di un'estinzione della gloriosa società Granata resta comunque sul tavolo e anche questo si tratturrebbe in un danno oltretutto economico e finanziario per la proprietà di Russo qualora appunto non avvenga un passaggio di quote con tutti i crismi perché si passerebbe da una valutazione teorica di mezzo milione di euro ad un valore zero. Sì, è inspiegabile. Si sconfina nell'autolesionismo insomma. Sì, perché poi comunque parliamo di un imprenditore che non ha macchia nel suo curriculum fino ad oggi e non si capisce come... E tra l'altro ha sempre garantito la copertura degli impegni che si è assunto in questi anni nella gestione dell'Alma fino a quando ha deciso di chiudere i rubinetti. Sì, aveva sorpreso spesso anche gli stessi tesserati che non erano abituati a vedersi accreditati sul conto corrente e rimborsi addirittura qualche volta in anticipo. Quindi, ecco, stride tanto quello che sta accadendo rispetto anche appunto alla figura imprenditoriale e alle abitudini che aveva dato nella sua gestione a livello economico quantomeno. Poi dopo possiamo discutere sulle scelte compiute a livello tecnico e via dicendo. c'è una situazione extracampo che è predominante al momento però c'è anche una situazione di campo almeno altrettanto complessa con un'Alma che naviga nei bassi fondi della classifica più a contatto dell'ultimo posto che della quota salvezza è una situazione tecnica che risente del quadro che è stato ampiamente disegnato anche in questa conversazione squadra che ha un problema tecnico più grosso di altri vale a dire non disporre di attaccanti di ruolo o comunque disporre di attaccanti in condizioni non ottimali a Termoli nell'ultima partita giocata prima della sosta Calumbo unica punta di ruolo all'inizio e questo è tutto dire sì le ripercussioni sono inevitabili partendo poi dal presupposto che l'estate scorsa la squadra era stata costruita con un budget ridottissimo all'osso e quindi anche con poche figure di esperienza all'interno dell'organico qualcuno è venuto a meno nel corso dell'annata proprio anche per i tagli imposti da russo e il reparto che ha sofferto di più questa situazione è stato il reparto avanzato privato ad un certo punto lo ricordiamo del punto di riferimento cioè quel Tenkorang che finalmente a Fano ha trovato anche confidenza con il gol quello che gli mancava sì assolutamente avevamo cominciato con la grande incognita di Padovani non si discute il valore del giocatore però purtroppo a quell'età è un classe 89 e dopo oltre un anno di inattività è difficile tornare ai livelli pre infortunio in più anche Tenkorang comunque era il secondo anno effettivo in serie D quindi comunque anche lui una sorta di scommessa ma che il Fano piano piano stava cominciando a vincere poi però sul più bello si è deciso di cederlo per carità anche questo legittimo ma andava sostituito adeguatamente invece sappiamo tutti come è andata è stato riportato a Fano perché già aveva avuto una parentesi tra l'altro in Fausta qui riportato virtualmente però Scardina è stato acquistato a gennaio in sostituzione di Tenkorang che aveva segnato sei reti reduce da una doppietta inserito quindi ci siamo insomma privati del terminale offensivo che dava delle garanzie per un salto nel buio perché anche qui la rete aiuta se non ci fossero altre conoscenze ovvero insomma i siti specializzati raccontano di uno Scardina che non gioca da novembre che già nella passata stagione era stato più in infermeria che sul campo per problemi fisici poi contattandolo si scopre anche che insomma quando aveva avuto l'approccio con la società era stato chiaro specificando che non sarebbe potuto venire a Fano finché non avesse superato i problemi fisici ma non solo quelli anche problemi familiari tra l'altro anche il profilo tecnico di uno Scardina in piena salute non è che desse tutte queste assicurazioni sul futuro sì perché comunque appunto c'è uno storico di infortuni ci sono caratteristiche che non combaciavano tanto con gli altri attaccanti in rosa perché ci siamo magari dimenticati un attimo dell'arrivo di Coulibaly che si può avvicinare per caratteristiche a Scardina quindi una sorta di doppione tra l'altro anche su Coulibaly ci sarebbe da ridire perché insomma si è presentato il primo allenamento dopo pochi minuti si è fermato per noie muscolari che si è poi trascinato che si è poi trascinato il campionato nel frattempo si è fermato per il turno di riposo in concomitanza con la Coppa Carnevale il torneo di Viareggio si è disputato soltanto il recupero tra Vasto Girardi e Fossombrone è finita 0 a 0 la classifica si è modificata di poco il Vasto Girardi come vediamo resta penultimo ad una lunghezza dall'alba questa è l'unica buona notizia tra l'altro una pausa che nel caso dell'alba è destinata a prolungarsi perché la presenza di Mancini questa rappresentativa di D che al torneo di Viareggio ha esordito con una larga vittoria sugli spagnoli della Jovenes Promesas credo si chiami così la selezione iberica fa presumere un passaggio del turno che porterebbe automaticamente alla disputa di Alma Juventus Fano Notaresco in una data da stabilire quando in caso di eliminazione della rappresentativa si giocherebbe mercoledì 21 dopodiché si dovrebbe andare a piedi monte Matese ma se la rappresentativa fa strada anche quella partita potrebbe essere in qualche modo rinviata è una sosta comunque benedetta se non altro perché aiuterà senza la preoccupazione di dover preparare una partita a chiarire la situazione sì già è capitato insomma di scendere in campo con dei cattivi pensieri nella testa giocare sapendo che c'è una situazione di crisi all'interno della società tanta incertezza non è assolutamente facile quindi il fermarsi in questo momento salutare dare la possibilità anche di recuperare qualche acciaccato nella speranza che il quadro di questo malato migliori in questo senso intanto saltiamo la partita di domenica come dicevi giustamente in virtù della concomitanza con la Via Reggio Cup dove c'è Mancini che ieri con la fascia da capitano al braccio ha esordito ha vinto la prima partita tutto lascia pensare che l'avventura della selezione dei dilettanti proceda questo significa appunto che non si giocarebbe nemmeno il recupero che per il momento è stato programmato per mercoledì col notaresco e a quel punto si vedrà grazie a Massimiliano Barbadoro giornalista del Corriere Adriatico noi ci rivediamo fra qualche attimo tocca ora la pallavolo è una smart system che in trasferta non riesce proprio ad ingranare a Lago Negro come vediamo dalle immagini terza sconfitta consecutiva lontano dalle mure amiche dove in questa stagione sono arrivati più dolori che gioie per la formazione virtussina era uno scontro diretto la smart system l'ha affrontata con il piglio giusto ma non è riuscita a capitalizzare il vantaggio che nel primo set si era propiziata grazie soprattutto al servizio senza storia a vantaggio dei padroni di casa il secondo parziale la smart system ha rimesso in discussione il risultato nel terzo poi nel quarto ha sempre inseguito senza però riuscire a mettere mai il naso avanti lamentando ancora una volta più di qualche difficoltà negli scambi importanti e incontrando problemi in particolare nella fase di cambio palla e contrattacco i risultati della giornata che andiamo a vedere determinano una situazione di classifica che comincia a farsi un pochino inadeguata rispetto alle premesse di inizio stagione Lago Negro grazie alla vittoria nello scontro diretto a lunga nei confronti dei fanesi così come fa San Giustino che ha liquidato Napoli mentre al comando Macerata nonostante la battuta d'arresto di Lecce come vediamo dalla graduatoria mantiene saldamente la leadership Smart System anche agganciata da Palmi e proprio Palmi farà visita alla formazione fanese nello scontro anche questo diretto di domenica prossima al Palace Aiente Smart System che a questo punto si aggrappa al fattore casalingo e in casa è ancora imbattuta la formazione di Mastrangelo che ancora non è riuscito fino in fondo ad imprimere il suo timbro a questa formazione che anche dal punto di vista della personalità evidentemente ha qualche carenza Smart System che deve crescere in fretta perché non c'è soltanto il campionato ma anche la Final Four di Coppa Italia che si disputerà proprio a Fano la candidatura proposta dal presidente Cenerilli ha fatto breccia si giocherà il 2-3 marzo prossimi Smart System che in semifinale sabato 2 marzo alle 17 affronterà Mantova capolista incontrastata del girone nord della 3 nell'altra semifinale di fronte Palmi e Savigliano la finale domenica alle 18 sempre ovviamente al Palassa Iende e anche in questa puntata ci dedichiamo al calcio a 5 e ci occupiamo in particolare di una realtà ormai consolidata del futsal locale vale a dire etabeta ne ospitiamo l'allenatore della prima squadra Davide Bernesi buonasera e benvenuto e Damiano Iacucci che è tornato a trovarci allenatore dell'Under 19 buonasera etabeta che sta disputando il campionato di serie B con una prospettiva al momento che sembra essere quella dei playoff anche se mi pare la situazione Bernesi sia molto fluida per cui con tante partite ancora da giocare di certezze ce ne sono poche assolutamente sì le certezze ce ne sono poche l'unica è che è un campionato da giocare partita per partita e la classifica da guardarsi molto più in là l'ultima partita particolarmente impegnativa non è finita come avreste desiderato affrontavate la prima in classifica l'Audax Sant'Angelo che si è imposta al campo del circolo tennis della trave per 6 a 1 un avversario fuori portata oppure una gara che ha avuto una storia una dinamica che non ha ripagato fino in fondo le vostre aspettative ma sicuramente i valori dell'avversario vanno riconosciuti perché comunque è prima in classifica e quindi questo è una cosa già ben chiara la nostra prestazione è stata al di sotto delle nostre possibilità quindi un po' di rammarico c'è ma soprattutto c'è dispiacere anche perché abbiamo avuto un infortunio importante nel corso della gara Magnesi tornato alla guida dell'Eta Beta dopo tanti anni ha contribuito alle prime affermazioni del club presieduto da Simone Serafini cosa ti ha spinto ad accettare di nuovo la proposta credo di persone con le quali hai sempre mantenuto un ottimo rapporto assolutamente sì è una società prima di essere una società per me si dice è una famiglia ma è la verità insomma e tornare qua all'Eta Beta mi ha spinto uno la passione che è costante da parte della società di tutti i dirigenti e anche la professionalità di tutti i ragazzi che mi seguono quindi è stata una proposta che ho accettato subito come avete strutturato la squadra in estate quali obiettivi vi siete prefissati appunto la squadra un pochino ha avuto dei cambiamenti perché comunque ci sono stati appunto dei ragazzi che sono entrati o delle uscite quindi è stata improntata una squadra giovane con alcune pedine diciamo di esperienza però un mix un mix che appunto non è che ti dà delle certezze delle prospettive delle certezze su degli obiettivi da raggiungere quello che ci siamo prefissati appunto è la competitività della squadra e la crescita dei ragazzi anche perché bisognava mettersi alle spalle un campionato quello dell'anno scorso particolarmente sofferto e quindi da questo punto di vista avere una diversa continuità assolutamente sì ricreare l'entusiasmo e l'energia appunto che mettono tutti i dirigenti per questa causa portarla sul campo e dimostrarla ogni partita dicevamo di giocatori giovani anche giocatori di esperienza tra l'altro recentemente è stata festeggiata la 250esima partita in maglia etabeta di quello che è un po' l'emblema della squadra sì 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 assolutamente abbiamo dei giocatori importantissimi da un punto di vista appunto dell'esperienza quale il nostro capitano Lauren Sete e Tai o anche se l'abbiamo acquistato quest'anno Dario Vitale comunque giocatori che hanno la categoria nelle loro gambe ma abbiamo aggiunto una serie di ragazzi di prospettiva anche interessanti come si è sviluppato il campionato fino adesso mi pare che in casa abbiate fatto valere i vostri diritti magari qualche problemino in più in trasferta sì questo è quello che dicono i numeri fondamentalmente perché comunque in casa abbiamo fatto bene e in trasferta invece abbiamo faticato ma se poi vanno analizzati e andiamo a analizzare bene questi numeri tutte le partite sia in casa che in trasferta si decidono sul filo di lana praticamente quindi le partite sono equilibrate in questo momento sì il fattore casa ci sta dando ragione ma adesso queste sette partite non so dovremmo giocarle come se le giocassimo tutte in casa per avere un'idea di come si sta sviluppando questo campionato di Serie B la schermata dei risultati dell'ultimo turno si giocava la giornata numero 15 e vediamo come all'affermazione della capolista Audax Sant'Angelo a Fano abbiano fatto eco quelle del Cerreto Desi sul Cus Sancona del Corrinaldo sul San Giorgio del Cus Macerata sul campo del Grifoni del Real Vieti su Poggio Fiorini e dei Recanati su Gacce 2000 classifica e qui chiaramente l'argomento si fa più interessante perché vediamo l'Audax Sant'Angelo che è allungato ma ancora non più di tanto perché Grifoni ha quattro lunghezze quindi margine recuperabile poi Recanati Real Vieti Cus Sancona Corrinaldo Etapeta e Cus Macerata ricordo che la prima in classifica accederà direttamente alla 2 poi seconda terza quarta e quinta disputeranno i playoff e ai playoff guarda inevitabilmente vista la posizione Etapeta anche se bisogna dare un occhio anche a quello che succede alle spalle assolutamente siamo in autostrada un occhio davanti e due occhi dietro è una classifica che sta traducendo i valori delle diverse realtà che compongono questo campionato sì posso dire che Audax e Grifoni hanno fatto un po' un campionato decisamente superiore rispetto alle altre e poi da Recanati in giù da Recanati a Cerreto Desi che ha 12 punti è tutto molto molto equilibrato l'ultima partita Cerreto ha fatto 11 gol in casa quindi la classifica è cortissima ma è la realtà hai maturato una lunga esperienza nel calcio a 5 ai più diversi livelli come si colloca il campionato di Serie B nella gerarchia dei valori del futsal italiano ma questo campionato ecco molti dicono che si è abbassato di livello per via della riforma sul calcio a 5 quindi la riduzione del numero a cascata a cascata quindi riduzione del numero degli stranieri e quant'altro e su questo posso essere d'accordo ma perché magari ci sono più giovani che iniziano a misurarsi su un campionato a livello agonistico importante ma da un punto di vista della difficoltà io penso che sia uno dei campionati degli ultimi anni che ho disputato indipendentemente dalle categorie più complicato più difficile perché l'equilibrio è sinonimo poi di difficoltà quali le qualità per emergere in questo campionato diverse da quelle che servono per svettare in altri tornei oppure qualcosa di più specifico ma no io qua quello che chiedo ai miei ragazzi è chiedo la costanza nel lavoro in assoluto durante la settimana perché è l'unica strada per poter fare poi una serie di risultati positivi che è l'unica cosa che può dare un segnale alla classifica altrimenti se si alterna una vittoria una sconfitta rimarremo fino all'ultima giornata appesi al filo si diceva dell'impatto dei giovani su questa squadra allora parliamo di questa under 19 che tra l'altro ha un precedente molto importante la stagione scorsa si è spinta molto in là vero Iacucci esatto se mi concedi una battuta quando eravamo qui l'anno scorso parlavamo di un under 19 che volava e di una prima squadra che invece tentennava quest'anno probabilmente la situazione si è ribaltata ma sappiamo bene chi lavora insomma con i ragazzi nei settori giovanili che il risultato ormai va guardato perché parliamo di ragazzi che hanno 17 18 19 anni quindi devono fare delle prestazioni che portino poi dei risultati a casa però sappiamo bene che per ragazzi di quell'età è importante l'esperienza che si matura sul campo e da questo punto di vista non mi posso lamentare è un bellissimo gruppo stiamo lavorando molto bene i risultati purtroppo in classifica non sorridono però sono dei ragazzi che hanno a cuore insomma l'impegno che si sono presi e anche il fatto che hanno la possibilità di allenarsi in prima squadra quando se lo meritano e quando insomma c'è bisogno è sicuramente da grande motivazione a loro e vedono questi giocatori della prima squadra come degli idoli da cui aspirare e chissà che un giorno non saranno loro a fare le fortune dell'età beta e poi incide come sempre nella composizione di una rappresentativa giovanile il fatto che da un anno all'altro i giocatori non siano più gli stessi esatto ci sono stati dei grandi cambiamenti abbiamo anche avuto tra virgolette la fortuna che i ragazzi che l'anno scorso componevano quella under 19 che faceva bene ora stanno facendo esperienza e abbiamo sia in prima squadra da noi che alcuni ragazzi mandati in prestito purtroppo adesso in prima squadra da noi si è fatto male Alex Palazzi ha avuto un infortunio importante infatti gli facciamo i migliori auguri per noi è stata una bella mazzata più che altro in ottica prima squadra però ecco è bello vedere questi ragazzi poi cominciano a farsi valere nel futsal locale a tutte le latitudini proprio con te nella tua precedente ospitata avevamo trattato anche il tema della convivenza con il calcio della possibilità di dare della possibilità appunto di lasciare scegliere questi ragazzi fra calcio e calcio a 5 in qualche modo risolvendo questa diatriba chiamiamola così e questa è la politica che continuate a perseguire anche a livello di base? non è semplice non è immediato però sì anche quest'anno sono arrivati da noi dei ragazzi che hanno cominciato la stagione a calcio a 11 poi però si sono appassionati a calcio a 5 gli è stata data la possibilità in un primo momento di fare entrambe le cose poi hanno scelto di rimanere con noi e adesso li abbiamo anche arruolati in pianta stabile in prima squadra quindi hanno fatto questa scelta però chiaramente il calcio a 11 è propedeutico al calcio a 5 e viceversa ci vorrebbe sempre di più che tutte le società di Fano ma non solo partissero dal calcio a 5 per poi avere dei giocatori formati per il calcio a 11 da un punto di vista tecnico tattico e sotto tutti i punti di vista Nello sport è qualche volta in maniera anche impropria e ridondante si parla spesso di progetto però quando si fa attività di base il progetto serve Il progetto è necessario noi abbiamo la fortuna come ETA Beta di fare quest'anno l'ottavo campionato consecutivo di Serie B questo in qualche modo è stato per noi obbligatorio avere un settore giovanile perché c'è stato imposto appunto dalla partecipazione a un campionato nazionale però tutti gli anni continuiamo a crederci a investirci anche quando non è semplice anche quando come in questa stagione non arrivano i risultati in termini di punti in classifica però i risultati coi ragazzi sono altri specialmente da un punto di vista della crescita umana prima di quella sportiva Attività di base che deve corrispondere alla disponibilità di impianti sappiamo che a Fano l'unico impianto per il calcio a 5 è ormai diventato quello del circolo tennis della trave quanto incide in maniera negativa il fatto che non ci siano spazi specifici per il calcio a 5 a Fano se non quello tocchi un tasto particolarmente dolente per anni ci siamo allenati all'aperto e capite bene che dover giocare poi la partita quindi la prestazione per la cui ti prepari su un campo che è in erba sintetica e poi andare a giocare sul parquet è drammatica la situazione da un punto di vista proprio tecnico di feeling col pallone eccetera quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere due allenamenti su tre la disponibilità dell'impianto della trave parlo di fortuna perché ci siamo dovuti organizzare molto ci siamo dovuti adattare a delle condizioni per cui trovare degli orari che andassero bene sia a noi allenatori che ai ragazzi in qualche modo ci siamo riusciti ad organizzare però chiaramente se non ci fosse stata questa possibilità o questa disponibilità anche da parte dei ragazzi di allenarsi magari anche in orari che non sono proprio favorevoli sicuramente sarebbe stato molto deleterio per la stagione che andiamo a fare invece abbiamo la possibilità di utilizzare il palazzetto sul parquet anche durante la settimana e questo non è purtroppo non è scontato perché la città non offre gli impianti giusti rileggiamo adesso la parabola sportiva di Barnisi cominciata con l'età beta se non ricordo male e che poi ha avuto due passaggi estremamente significativi uno anche suggestivo un'esperienza in Kuwait l'altro molto formativo in prima linea con l'Ital Service Pesaro al fianco di Colini in qualità di assistente cosa ti porti dietro dell'esperienza di Ital Service e di questa avventura in Kuwait ma posso solo ringraziare appunto queste esperienze che ho fatto perché comunque si sono partito tanti anni fa da Fano quindi quello che era il palestra per poi andare a Età Beta e da lì ho fatto questa scelta sono andato un anno a Pesaro dove ho incontrato ho avuto la fortuna di lavorare con Ramiro Diaz e con lo stesso Ramiro Diaz poi sono andato a farmi tre stagioni in Kuwait quindi è stato che cosa hai trovato è stata un'esperienza assolutamente positiva e formativa sia da un punto di vista oltre che straordinario sì assolutamente perché comunque solo il fatto di pensare di andare ad allenare una squadra all'estero in Kuwait in un mondo completamente diverso è stata una cosa già che ne ha valsa la pena e lì mi sono portato comunque al di là dell'aspetto sportivo tante altre belle sensazioni ancora che ho dei rapporti appunto che dei contatti che mantengo costantemente con i ragazzi giù in Kuwait a rientro dal Kuwait secondo me appunto questa esperienza mi ha portato poi a fare un'altra esperienza molto molto importante e formativa appunto stando con Fulvio Colini due stagioni tre stagioni o due stagioni due stagioni e ho fatto e portando a casa quanti trofei da Pesaro o dal Kuwait da Pesaro poi magari citiamo anche quello da Pesaro abbiamo fatto una stagione dove abbiamo vinto praticamente tutto ma avevamo una squadra stellare stellare perché comunque ci sono stati mondiali di Futsal ha vinto l'Argentina e cinque di quei giocatori erano giocatori di tal service quindi è stata un'esperienza davvero davvero importante misurarmi con dei campioni di quel calibro e poterli gestire ed allenare dove va il Futsal? vediamo un po' di allargare il discorso non soltanto quello marchigiano ma in assoluto anche il Futsal italiano alla luce anche di queste novità normative che sono stati introdotti il Futsal secondo me è comunque in crescita costante perché comunque le squadre nascono e quindi c'è una voglia di fare Futsal ovvio che per dire già Fano soffre da un punto di vista dell'impiantistica però comunque perché anche si sta aprendo anche al calcio 11 quindi già squadre importanti di calcio 11 Juventus per dire ha inserito il calcio 5 nella metodologia e quindi nella parte proprio della loro struttura e quindi si fa calcio 5 fino a ad un certo livello ma già Bologna o altre squadre di Serie A iniziano ad inserire il modello ad aprirsi a questo fronte e quindi sicuramente è in espansione questa disciplina il discorso del livello questa riforma un pochino l'ha abbassato ma quello è un discorso che ha bisogno di tempo perché comunque se guardiamo i modelli più importanti che sono il modello spagnolo o il modello portoghese che sono ai livelli top mondiale stanno facendo i campionati di Serie A solo con giocatori spagnoli o portoghesi quindi non è detto che questo abbassa il livello ci vuole tempo torniamo prima di salutarci al campionato prossimo appuntamento sul campo del Cussancona vedendo la classifica scontro diretto in chiave playoff non si sfugge no è uno scontro diretto in chiave ne riparliamo fra qualche partita difficoltà di questa gara? troviamo una squadra che anche loro hanno fatto del fattore casalingo la loro arma principale e quindi sarà una partita molto molto difficile che andiamo ad affrontare senza Palazzi come abbiamo detto e senza il capitano senza Lauren Sete ma abbiamo avuto la fortuna che la società nel mercato di dicembre abbiamo inserito altri due ragazzi e quindi saremo comunque competitivi grazie a Davide Barnisi allenatore di Etabeta grazie anche a Damiano Iacucci allenatore dell'Under 19 noi ci rivediamo fra qualche istante quello dello sport è un piccolo grande universo popolato da personaggi dalle storie più diverse ed è una storia sicuramente particolare quella di Daniele Grassetti che abbiamo in videocollegamento credo dalla Croazia è così? sì ciao sono avvicino a Fiume buonasera e benvenuto chi è Daniele Grassetti ce lo spiegherà lui tra poco ma è un signore di una certa età anche se ancora sostanzialmente giovane che un bel giorno ha deciso di mettersi a percorrere a piedi l'Europa non gli è stato sufficiente una volta portata a termine quell'impresa ne ha subito ideata un'altra quella di percorrere l'Europa raddoppiando i chilometri da 10.000 a 20.000 stavolta in bicicletta un'avventura che è partita nei giorni scorsi proprio da Fano che si sta sviluppando appunto fino a raggiungere in queste ore la Croazia allora la domanda che ogni persona diciamo di buon senso si fa ma chi te lo fa fare? chi me lo fa fare non lo so in realtà no beh volevo far qualcosa di grande ma anche che sia inutile che abbia un risvolto sociale ed è per questo che poi queste due cose che hai menzionato sia i 10.000 chilometri a piedi che i 20.000 con la bicicletta sono collegate a delle raccolte fondi che vanno ad aiutare persone più fragili quindi prima era per la salute mentale questa qua in bicicletta invece è per le famiglie con disabili in effetti ci sono due associazioni ASI e l'associazione genitori di figli comportatori di handicap che sono tuoi partners in questa nuova avventura che come vediamo dalle immagini è partita dall'arco d'Augusto nei giorni scorsi vedo che almeno all'inizio eri in nutritissima compagnia segno che c'è affetto c'è condivisione intorno a questa tua operazione sì all'inizio c'erano un sacco di persone non me l'aspettavo comunque è stata organizzata dalle due associazioni che hai menzionato io sapevo parzialmente quante persone c'erano è stato un bellissimo colpo d'occhio a un certo punto mi ricordo che ero davanti ho fatto tutto per via in priciera ed è stato molto bene sì erano tanti poi dopo qualcuno ha fatto con me fino a Rimini e qualcuno mi ha raggiunto anche per la seconda tappa da lì in poi ho fatto da solo la cosa buona è che quando mi fermo non sono mai da solo avete preso il momento perfetto in cui sono da solo posso parlare non ho nessun problema sono sempre delle persone ed è una cosa veramente una grandissima solidarietà sto trovando dicevamo di un percorso di 20.000 chilometri che ti porterà fino al punto più a sud in Grecia e poi addirittura a Caponord credo una ventina i paesi che toccherai per un viaggio che durerà la bellezza di nove mesi è così? sì nove dieci mesi i paesi sono 30 in realtà sono 30 paesi e questo sto facendo tutti o Dio buona parte dei paesi che ho lasciato fuori nel mio percorso a piedi perché a piedi il chilometro va bene ma è difficile spostarsi a piedi diventano lunghe le distanze quindi si copre meno territorio così invece con i chilometri si fanno una bella fetta d'Europa sì sì un tour di questo tipo richiede credo una preparazione molto accurata dal punto di vista fisico ovviamente dal punto di vista mentale anche dal punto di vista operativo perché bisogna pianificare le diverse tappe fissare anche i luoghi in cui trascorrere la notte e cercare magari dei punti di riferimento nelle diverse località certamente il percorso che ho fatto a piedi l'avevo organizzato un po' meglio sia dal punto di vista della mia preparazione fisica sia come ricerca degli alloggi questo con la bicicletta lo sto organizzando così come viene è un work in progress se mi chiamavate due sere fa ho dormito in un oliveto con la tenda quindi avremmo fatto il collegamento all'oliveto oggi invece ho trovato questo ostello che diciamo che dopo varie notti tra oliveto e gente che mi ha ospitato qui in questo pezzetto non ho trovato niente dove dormire allora mi sono preso un ostello oggi faccio il VIP oggi sono in ostello mi pare che questo elemento dell'improvvisazione arricchisca alla fine anche il senso di avventura che caratterizza imprese di questo tipo sì sicuramente poi è un po' un compromesso perché a volte quando uno è stanco dopo aver fatto tanti chilometri vorrebbe farsi una doccia calda e mangiare qualcosa e rilassarsi però dicevo parlavo l'altra volta con un amico quella è la bella vita qualche volta si può fare la bella vita qualche volta per impreziosire secondo me anche accamparsi un po' e soffrire però comunque essere più a contatto con quelle che sono poi le avversità del clima e delle superfici dove ci si trova dà qualcosa di più quanti chilometri percorri quanti chilometri percorri mediamente dimmi dimmi è una settantina dipende molto dai dislivelli qualche volta quando il dislivello è più facile 80-90 oggi ad esempio è stata lunga oggi ho fatto più di mille metri di salita ma a 75 chilometri è stata una tappa duretta oggi dal punto di vista tecnico come ti sei attrezzato qual è il mezzo qua c'è la mia bici come faccio a farla vedere da qui eccola ecco di che modello si tratta è un modello tedesco di cui non spoileriamo la marca però è un bel modello da cicloturismo è stata equipaggiata con borse dietro e poi dopo ho messo due reggiborse davanti quanto peso complessivamente ti porti dietro? è una bellissima domanda non l'ho mai pesata però a occhio sui 35 kg compresa compresa la bici non è pesantissima è abbastanza maneggevole devo dire la verità e comunque non è un dato trascurabile insomma un elemento di difficoltà in più trascinarsi dietro tutta quella roba imprese di questo tipo devono chiaramente fare i conti anche con un elemento che è quello rappresentato dal meteo che spesso può portare a difficoltà anche impreviste come hai già potuto constatare toccare con mano in occasione della Deni Wax Europe condotta a piedi sì sicuramente a parte il primo giorno della partenza da Fano fino adesso il meteo non è che sia stato un gran che perché mi è toccata nebbia e pioggia da ieri fortunatamente ho avuto due giornate di sole molto belle cosa buona che per adesso non ha fatto freddo però sono pronto sono pronto ad affrontare il freddo sono pronto ad affrontare altra pioggia perché tanto mi toccheranno voglio dire anche il caldo perché prima o poi arriverà l'estate fortunatamente sarò a nord vediamo come sarà col caldo perché il caldo è la condizione meteo che io soffro di più è difficilissimo fare attività fisica così prolungata 7-8 ore al giorno con il caldo è massacrante anche perché le risorse d'acqua non è che sono non è che piovono dal cielo bisogna comunque o trasportarle o comunque reperirle in giro e non è come ad esempio un cammino di Santiago dove sono segnati i punti d'acqua bisogna andare un po' all'avventura se uno non si vuole caricare tre litri però mentalmente sto bene e quindi sono pronto ad affrontare le avversità adesso concentriamoci proprio sull'aspetto mentale poi magari ci occuperemo anche di quello fisico quanto conta la testa per stare nove mesi lontano da casa in sella ad una bicicletta eh conta molto conta molto io sono come anche nel Daniel Walks Europe sono forte del fatto che è per me una bellissima esperienza gratificante quindi la mia testa è sempre molto carica di energia e anche adesso con la bicicletta in questi primi undici giorni devo dire che la testa è sempre al massimo però ci sono dei momenti come quando devi pedalare in salita sai che ci sono altre salite lì bisogna continuare o ci sono dei momenti in cui mi pedalo sotto la pioggia come diceva un amico mio a testa bassa di pedalare e lì la testa fa molto il suo gioco se no ti verrebbe da fermarti se ti fermi la giornata diventa infinita e lì la forza della testa è quella tener duro quando penso e dopo magari chi è più esperto mi dirà che ci sono altri metodi io la vivo così ci vuole anche un fisico ma un fisico bestiale o un fisico normale? no ci vuole un fisico normale ci vuole una testa come abbiamo detto prima ben predisposta ma il fisico è normale che l'allenamento si fa strada facendo ero un po' allenato per camminare per la bicicletta io non ho fatto quasi mai niente mi ero allenato un po' l'ultimo mesetto ma senza fare distanze incredibili e poi senza essere senza avere la bici carica quindi questa è una cosa nuova sto soffrendo un po' fisicamente ma giorno per giorno sto meglio in un fisico normale e basta e comunque ti aiuta a essere stato uno sportivo credo da sempre giusto? sì 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 non ho mai prima giocavo a calcio poi comunque sia ci mettevo in mezzo anche altri due o tre sport in maniera amatoriale spermo non sono mai stato aspetto anche aspetto anche questo delicato quello economico chiaramente si tratta di un'impresa che ha i suoi costi e tra l'altro ti tiene lontano dalle tue occupazioni per un periodo molto lungo come gestisci tutto? allora prima del Danny Walks Europe avevo fatto avevo messo dei soldi da parte facendo un terzo lavoro al lato degli altri due che già faccio e questi soldi mi sono avanzati un po' quindi già c'è un tesoretto da parte e poi questo viaggio lo sto affrontando molto più con l'ospitalità delle persone con la tenda e si riesce a stare veramente low cost perché fino adesso ho speso veramente poco e poi la regola è che al ristorante non si va mai e qui non so se si vede dietro c'è la spesa da qualche parte sarà la copro io con la testa comunque ando a fare la spesa al supermercato adesso mangio qualcosina di quello che ho comprato e ci sono modi è possibile però staccare dal lavoro per tutto questo tempo dalle tue occupazioni abbiamo detto più d'une sì vabbè da uno mi sono licenziato dall'altro ho fatto l'allenatore di calcio per un sacco di anni ma con la società in cui allenavo prima di partire per il viaggio a piedi ho avvisato che sarebbe stato l'ultimo anno quindi mi è possibile perché perché mi sono staccato dai lavori molti dopo fanno anche la domanda cosa fai quando torni ma io in realtà non so cosa fare prima quando torno ecco mi pare di capire che non sia la tua preoccupazione primaria quello che succederà domani no 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 è veramente che ho un sacco di una buonissima energia è una buonissima anche capacità di creare collegamenti e connessioni con le persone quindi non sono preoccupato questa tua attenzione verso il sociale quando nasce e perché ho fatto servizio civile con i disabili all'epoca quindi diversi anni fa una tozia di anni fa e poi ho fondato un'associazione che si occupa di inclusione sociale aggregazione attraverso le camminate specialmente ma di attività all'aperto e quindi il sociale c'è sempre stato un po' nella mia è la cosa bella che sono laureato in marketing e quindi proprio sono andato dalla parte opposta forse stati gli studi a mandarmi all'opposto di quello che avrei dovuto fare a proposito di marketing queste tue imprese sono racchiuse in questo brand chiamiamolo così Danny Walks Europe c'è magari l'ambizione di attirare qualche sponsor che non fa mai male poi alla fine ah se voglio ben volentieri ben volentieri no la cosa buona è che ho avuto la bicicletta sponsorizzata da un negozio di Pesaro e un po' di materiale tecnico e gli sponsor sono stati bravi bravi a credere nel progetto però certo qualche sponsor può sicuramente dare una mano e anche se non è che sono lì a cercarli proprio con con la lente di ingrandimento però se ci fossero ben venga ci può crescere insieme mi rendo conto che all'inizio in pratica di questa nuova avventura la domanda suona leggermente intempestiva ma non è che ti frulla qualche altra idea per la testa forse cose più corte sono curioso sono curioso di altri percorsi a piedi magari delle alte vie che ci sono un po' in giro per l'Europa ma cose un po' più corte dai un mese due mesi e poi ho promesso ai miei genitori che questa era l'ultima lunga e quindi di fronte a una promessa fatta ai genitori non ci si può chiamare fuori speriamo speriamo grazie a Daniele Grassetti in bocca al lupo per tutto e magari avremo occasione di risentirci in futuro per fare il punto della situazione perché nove mesi sono lunghi la trasmissione va avanti per cui questa opportunità sicuramente non dovrebbe mancare grazie anche a tutti voi ci risentiamo quando siamo a Caponord magari perfetto grazie anche a tutti voi per averci seguito anche questa sera vi attendiamo come sempre la settimana prossima stavolta di martedì un po' grazie a tutti un po'